A TRISSino via del lavoro e a Vicenza Centro Ponte Aldo Buonasera, ben ritrovati a Rigorosamente Calcio Allora, sei gol per ripartire, sei luccicanti gol per restare agganciati alla vetta, al treno di vetta Allora, evidentemente la cura del ritiro e del silenzio stampa qualche risultato l'ha dato Il Vicenza c'è tra moltissime abbaglianti luci, anche tra qualche ombra Come i due gol, due gol e mezzo diciamo così, subiti domenica sul campo del Mantua Allora, ne parliamo stasera, sarà una lunga analisi Avremo tantissimi contributi, ascolteremo la voce di Mister Modesto Ma anche quella del patron Renzo Rosso E quindi restate con noi, ne parliamo con Michele Nicolin, responsabile del settore giovanile dell'Ana Rossi Buonasera e grazie di essere tornato Buonasera a voi Buonasera Toto Rondon, bandiera bianco-rossa, buonasera Buonasera a voi Grazie di aver accettato l'invito Claudio Pasqualin Buonasera Ben ritrovato, avvocato Antonio Stefani Buonasera a tutti Gianni Poggi, grazie di essere con noi Buonasera Grazie dell'invito Andiamo veloci veloci Allora, Anna, un po' di istruzioni per i nostri telespettatori tifosi Molto velocemente Allora, ho letto anche ieri tutti i vostri messaggi Siete sicuramente più tranquilli, voi telespettatori e tifosi Vicenza c'è, sta luccicando appunto E sta dando maggiore serenità Allora, quello che vi chiediamo è Ma secondo voi, è un Vicenza che è uscito dalla crisi? Sì o no? Andate a votare il nostro sondaggio su Instagram E rispondeteci anche attraverso i messaggi al 3357716200 Giovanni Io invece ho un occhio sulla Serie A, sul posticipo Si gioca a Torino dove la Cremonese cerca il primo successo Con tanta fatica di questo campionato Torino che cerca invece i tre punti per superare i cugini ed entrare in Europa Siamo alla mezz'ora, ancora 0-0 Ecco, però entrambi gli occhi ce li avevi ieri sul Vicenza Che partita hai visto? Ho visto una partita dai due volti Un avvio sicuramente da dimenticare Per un Mantua che ha messo in campo l'unica qualità che aveva Cioè quello della voglia Un ambiente difficile Era la peggiore ed è la peggiore squadra del 2023 Ha messo in campo tanta grinta anche per via dei tifosi che hanno pronti via contestato la squadra E Vicenza ha un po' subito questo impatto Poi è venuta fuori con la qualità dei singoli Una vittoria così larga, non si vedeva da 80 anni in trasferta Di contro c'è ancora qualcosa da sistemare Le scelte erano forzatamente quello L'ha spiegato anche il mister nel dopo partita Con due play in mezzo al campo Chiaramente riducono la possibilità di intercettare i palloni Ma non c'erano tanti altri giocatori a disposizione Questo ha portato a scoprirsi molto E anche a portare poi una goleada Una squadra che vive sempre di questi alti e bassi Un luna park di testa L'ha messo anche il mister a fine partita Questa volta ci è andata bene La speranza è che si possa continuare così Ci sono cinque squadre in tre punti Sì, più che quello si è formata la frattura Poi col resto del girone o idea Quindi è il momento assolutamente di sfruttare queste giornate C'è lo scontro diretto Ci sono altre squadre che nei play-off stanno facendo bene E possono dare una mano al Vicenza Uno su tutti l'Arzignano E quindi chissà che queste tre vittorie Possano far da volano anche per queste ultime dieci partite Allora, andiamo con ordine E visto che abbiamo il piacere di avere un esponente Della società bianco-rossa questa sera Allora, sono state delle settimane anche turbolente Dopo tre sconfitte consecutive Avete fatto gruppo Vi siete chiusi dentro lo spogliatoio fondamentalmente E avete ritrovato anche quella serenità Che a un certo punto sembrava mancare In questo senso anche la cura del ritiro Probabilmente è servita Penso proprio di sì Ecco, io non vivo la quotidianità della prima squadra Però avete sentito anche le parole del mister Il ritiro è stato sicuramente utile È stato un volano per coalizzarci Per diventare ancora più squadra Anche se questo gruppo qua non ha mai smesso di essere squadra Perché è un gruppo di ragazzi in gamba E innamorati anche della maglia Allora, abbiamo parlato del ritiro Allora, chiedo alla regia di andare a recuperare Il terzo segmento che riguarda la conferenza stampa di ieri Di mister Modesto E ascoltiamo proprio che cosa dice a proposito del ritiro Questa è una reazione comunque che i ragazzi Se mi parli delle sconfitte contro Novara e Juventus È vero perché trollavamo E l'Eco trollavamo al gol subito Invece i ragazzi riescono comunque a ripartire A fare le cose come si deve Si arrabbiano molto di più Adesso si parlano di più pure in mezzo al campo Riescono a dialogare Quindi fanno le cose che devono fare Quando i compiti sono ben precisi La squadra comunque ha fiducia E questa fiducia li porta poi dopo A essere molto più incisivi Il ritiro ci ha dato un po' di serenità dentro Nel senso che poi dopo i ragazzi Stando sempre a contatto tra di loro Lì si parlava Ma si lavorava tanto Perché comunque Sapevamo che comunque la squadra Aveva bisogno di ritrovare La scintilla per ripartire Anche nelle difficoltà magari Però sono stati bravi Sono stati bravi poi nelle partite successive E oggi Dobbiamo migliorare su quel pezzettino lì Capire che le partite durano 95 minuti Ma non partire con il freno a mano tirato Ma avere giù il freno a mano E andare forte Allora poi torneremo a sentire Mister Modesto Tottor Rondon servono i ritiri? Ne facevate anche voi? Beh servono se i risultati vengono Se non vengono non servono Perché il calcio è fatto i risultati Ma che cosa succede in un ritiro? I giocatori se le dicono Finché non si riappacificano? Ma è un momento anche per ritrovarsi Per stare assieme Per vedere veramente Guardarsi in faccia Quindi a volte i ritiri servono Proprio per questo A volte invece magari peggiorano la situazione Dipende anche La squadra Se è disposta a confrontarsi E a ripartire In questo caso ha fatto molto bene Era necessario Perché dopo lo ascolteremo ancora Il mister Lui più che parlare di aspetti tecnici Batte molto sull'aspetto psicologico Ad esempio queste partenze Sempre un po' lente O spesso lente Che lasciano il pallino del gioco In mano agli avversari E poi questa volta è andata bene Perché non sempre il Vicenza Anzi quasi mai è riuscito poi A rimarrare da una situazione di svantaggio Beh certamente quello È una brutta cosa E quindi bisogna che il Vicenza Ci lavori su questo Perché le partenze sono importanti Poi non è detto che poi sia così Perché le ultime partite che avevamo perso Eravamo andati in vantaggio Quindi bisogna lavorarci su questo La squadra c'è Il problema è trovare continuità Questo è un campionato un po' balordo Dove non c'è una squadra leader Come negli altri gironi E quindi queste cinque squadre Se la giocano Chi troverà continuità dei risultati Vincerà Allora abbiamo parlato Avvocato Pasquali Abbiamo parlato di tantissime luci Ma anche di qualche ombra Non tutto è andato alla perfezione In una partita con sei gol Non capitava da ottant'anni In trasferta Ad esempio abbiamo visto ancora Qualche lacuna difensiva Certamente ma per un tempo Abbiamo visto qualcosa che non andava Tutto non andava Per la verità il primo tempo Evidentemente anche la difesa In qualche maniera messa sotto pressione Confermava i suoi ben noti limiti Poi come d'incanto Tutto nel secondo tempo è cambiato Dobbiamo ammettere che non tutti eravamo così ottimisti Una ripresa così è stata davvero inaspettata Alla luce del triste Per così dire primo tempo Il secondo tempo poi il Vicenza Ha dilagato in maniera assolutamente convincente E soprattutto ancora una volta Ha brillato l'attacco del Vicenza Il Vicenza ha fatto vedere Che potenziale ha lì davanti Potenziali come non ce ne sono in categoria Comunque siamo alla vigilia Ormai sta per cominciare Quella che si può definire In termini ciclistici Una volata direi ristretta Perché è probabile che siano queste cinque Quali delle cinque poi sia Paragonabile a un Pogacar È difficile dire adesso Cioè Pogacar Per chi non segue il ciclismo È il giocatore ciclista Più forte Allo Stato Al mondo Sì è difficile dire Io continuo a temere più delle altre Il Pordenone Però Quello che è probabile E comunque il Vicenza Ha dato un segnale sotto questo profilo Domenica scorsa È che il Vicenza Ci sarà Ci sarà Allora ascoltiamo un altro pezzetto Della conferenza stampa di Modesto E poi lo commentiamo Ascoltiamo ancora La sua preoccupazione Per gli aspetti psicologici Lui vuole vedere Concentrazione Vuole vedere il carattere Sin dal primo minuto Dobbiamo migliorarci Sicuro Tanto lavoro Perché Succede spesso Questi avvi di partita Un po' Anomali La partita deve essere Un filo diretto Non dobbiamo Non dobbiamo avere Alternanza Nei momenti di gara Quindi dobbiamo essere Molto più bravi Molto più capaci Poi dobbiamo parlare Parleremo della gara Faremo vedere un po' Le situazioni Dove si può migliorare Dobbiamo pensare Veramente Solo A migliorarci E lavorare di continuo Perché questa squadra Va a corrente alternata Delle volte E quindi deve essere Deve avere un filo conduttore Ben preciso Tante volte Cerchi di preparare la partita Con Estenza e ratezza Però non è così Perché comunque Il peso della gara E il peso dei punti È importante Quindi Dovevamo essere Molto più lucidi Nei primi minuti Nei primi minuti Errori loro Errori nostri Poi loro Sono riusciti a partire A passare in vantaggio Però poi dopo I ragazzi Secondo me Hanno fatto una gara Molto buona Dove hanno ripreso La gara bene Anche Nelle giocate Hanno trovato Buone trami di gioco Nel secondo tempo Di nuovo Abbiamo preso Un 3 a 2 Lì Dobbiamo essere Molto più bravi Quindi per questo Dico lavoro Poi dilagano Hanno comunque Nelle potenzialità Importanti Come conosciamo tutti Però dobbiamo Migliorare mentalmente E capire che gare Perché da qua Alla fine Stanno sempre Gare molto impegnative Con squadre Che affronti Che hanno bisogno Tutti di punti E quindi Noi dobbiamo essere Prima di temperamento Molto più cattivi E sentire la gara Nel modo giusto Ed essere liberi Di testa Però su questo Ci dobbiamo lavorare Allora Giovanni Andiamo diretti Con il posticipo E poi riprendiamo Il filo dell'Ane Sì perché doveva essere La gara di Sanabria Il numero 9 del Torino Ha già portato In vantaggio E Granata Il 41esimo Su calcio di rigore Decretato per il fallo Di Sernicola Che l'anno scorso Abbiamo visto Nella Cremonese Contro il Vicenza Ha atterrato Ilice Quindi al 42esimo Toro in vantaggio 1-0 sulla Cremonese Il rigore c'era? Il fallo c'era? Hanno parlato molto Al VAR Sono andati molto avanti A capire Non è andato a rivederlo Quindi decisione corretta Del direttore di gara E 1-0 Bene Allora Riprendiamo Torniamo a noi Antonio Stefani Allora Abbiamo capito Che la preoccupazione Di mister Modesto È soprattutto psicologica Anche se I due gol Presi Rivelano anche Un cattivo posizionamento Della difesa Nel primo E uno svarione Del portiere Nel secondo Sì Direi di sì Anche ieri La colpa era Soprattutto del centrocampo Ecco C'è procedizia Di giocare con Jimenez E Ronaldo in mezzo Magari non c'è nessuno Che fa legna Perché Se manca un po' C'è un po' Di schizofrenia In questa squadra Perché ci sono dei momenti In cui Sembra irresistibile E degli altri Che potrebbe Prendere gol Anche da cooperativa Di poste legrafonici Con tutto rispetto Per i poste legrafonici Che tanto comunque Non ci sono più Quindi possiamo andare sereni E credo che Questa sia Una componente Che ci porteremo Dietro Fino alla fine Del campionato Un successo Come quello Di Mantova Fa ancora più Tra virgolette Rabbia Siamo contenti Ovviamente Però Se pensiamo Che abbiamo perso Tre partite In modo sciagurato Bastava Almeno pareggiarle Tutte e tre Ed eri in testa Voglio dire Sono occasioni perdute Oppure ne vincevi una Però voglio dire Ecco Questo andamento Un po' Schizzoide Credo che Senti ma Averne quattro davanti Cioè È immaginabile Che una Due Possano Crollare Ma tutte e quattro Sarà una bella Diciamo così Lotta Fino alla fine Io non butterei via Il discorso Coppa Italia Perché Non si sa mai Perché spieghiamolo Che vantaggio darebbe A Coppa Italia In caso di vittoria Salti Salti Diciamo così Il preliminare Eccetera Dopo per carità Gli spareggi A Vicenza Raramente Sono andati bene Insomma Quindi facciamo le cose Però la Coppa Italia Me la porterei a casa È stato un bel numero Quello Intanto è un trofeo No? Esatto Che comunque Per quanto Modesto Però poi Poi l'abbiamo già vinto Anche in Serie C L'abbiamo vinto poi Nel 97 A livello maggiore E comunque Ti dà un vantaggio Competitivo In caso di Playoff Perché credo che La promozione diretta Sarà Magari arriviamo Testa a testa Ricordiamoci che abbiamo Il Pordenone Alla penultima Alla penultima Scontro diretto Mentre l'ultima Andiamo a Piacenza Speriamo che il Piacenza In un modo o nell'altro Sia già tranquillo Oppure disperato Poverini Ma insomma Che non abbia Alcuna velleità Di classifica Quindi stiamo già Facendo i conti Sul tabellino Mancano dieci partite Quando li fai? Allora Gianni Foggi Ti faccio sentire L'ultimo passaggio Dalla conferenza stampa Di Modesto Dove parla appunto Del centrocampo Creativo E meno di filtro E poi lo commentiamo Io ho voglia Tante volte Di avere più qualità Pure in mezzo E quindi Loro due Se fanno bene La fase difensiva Possono coesistere Perché hanno gamba Perché Comunque Sui punti di riferimento Giocando loro Con un centrocampo a due Ho pensato Che loro potevano Reggere i loro Due centrocampisti E quindi Ho scelto Loro due E' andata bene Perché Anche A livello di gioco Penso che Hanno trovato Dei passaggi Comunque Molto importanti Vabbè Però abbiamo Altri centrocampisti Che adesso Tra poco Rientreranno Zonta Loro Loro Ha fatto una scelta Quello Quello che ha scelto Questa volta Modesto E gli è andata bene Anche perché È prevalso Il vero valore Di questa squadra Che non è una squadra È un gruppo Di grandi Grandi Giocatori Per la categoria Sto parlando Sto parlando Sto parlando In assoluto Manca un'amalgama Secondo me Non c'è ancora Io non ho ancora visto Una partita da dire Ah questo è il gioco Del Vicenza Il gioco Delle altre squadre Prego Il gioco Delle altre squadre Peggio ancora Ah ok Allora su questo va bene Infatti Io sto ancora Aspettando Che qualcuno Riesca a spiegarmi Come mai Questo girone È un girone Così Scadente Cioè Non è possibile Che A differenza Degli altri due gironi In cui ci sono Due capoliste Che hanno già Dei vantaggi Stratosferici Possono dire Tranquillamente Di essere in bio Quasi Nel nostro girone Ci siano cinque squadre In tre punti E che non riescono A trovare Nessuna di queste cinque Riesce Tre candidati Più due outsider Nessuna di queste Riesce a trovare Una continuità Di gioco Anche il Pordenone Che Claudio Giustamente Secondo me Indica Anche il Pordenone Ha degli alti e bassi Ispiegabili Che Con un allenatore Esperto come di Carlo Con una squadra Che francamente È buona Secondo me Sono ispiegabili Allora Siamo ancora lì Con tanti punti di domanda Perché non sappiamo Cos'è questo girone Arriveremo fino in fondo Come dice Tony Cioè Arriveremo punto a punto Il promosso Avrà un punto In più del secondo O finiranno a pari punti E ci sarà Non so La classifica Vulsa Credo che ci voglia La sfera Veramente di cristallo In questo momento La qualità media È bassa Io sono d'accordo Con te E già in altre Trasmissioni Mi avevo Fatto cenno Così come occorre Ribadire Che questa volta Si è derogato La regola Che l'altra volta Avevamo definito Nella scorsa trasmissione Del ciapano Perché sembrava Forse il campionato Proprio Dei giocatori Ho usato Un'espressione Infattica Ma ovviamente Relativa Andavo a precisarla Ma questo Vicenza Dipende da alcuni giocatori Non c'è niente da fare E sono i giocatori Dell'attacco Perché la difesa Ormai è nota E quindi Ha dei limiti E va bene E questa È stata scelta Va bene così Il centro campo Ha problemi Di organico Perché è stato Faciliato Da infortuni E quant'altro L'attacco È stratosferico Però non sempre Riesce a esprimersi Mi sembra Che con Però dipendere Da cinque giocatori Vuol dire che non dipendi più Da un giocatore È la squadra che è così Non si può dire Che dipendiamo dai singoli È un po' eccessivo Forse Cioè I gol che ieri abbiamo fatto Sono veramente Tanto belli Arrivare a dire Che viviamo sui singoli Forse è un po' eccessivo Ferrari Abbiamo visto Quando sta fuori Te ne accorgi Perché fa Un lavoro pazzesco Oltre che A metterla dentro Insomma Abbiamo visto Io temevo molto Per esempio Per Ronaldo Domenica Che è un altro giocatore Decisivo Secondo me Ma temevo perché Perché si capiva Che quelli del manto L'avranno preso di mira Come dire E gli hanno fatto dei falli Proprio Affidando Sulla sua reazione Invece Si è mantenuto calmo E composto Ma è un giocatore Che lo senti Ronaldo Quando c'è Insomma È importante Che ci sia Tu non lo faresti giocare Ma io credo che Un Ronaldo Convincente Finora L'abbiamo visto Poche volte Anche perché L'abbiamo visto Poche volte Poche volte In senso assoluto Tranne in qualche calcio Piacciato Lì si capisce Che il piede Certi passaggi Come quello di ieri Che per poco Ci costava Il 2 a 0 E lì Sarebbe stata dura Poi recuperare Sarebbe stata dura Comunque stiamo parlando Di una squadra Che ha segnato 10 gol In due partite Tra la Coppa E il campionato E allora Volevo chiedere A Totto Rondon Intanto Un giudizio Sull'attacco E poi In particolare Su El Loco Ferrari Insomma Che è il giocatore Più iconico Di questo attacco Quando è in vena Non ce n'è per nessuno E ne guadagna Naturalmente Tutta la squadra Beh è un lusso Per la categoria Questo è fuori discussione È un giocatore Che sicuramente Può fare anche la B Sia per il fatto fisico Sia perché vede la porta Sia perché gioca Fa reparto da solo Quindi è un giocatore Importantissimo E davanti Mi ripeto Perché insomma Davanti siamo una squadra Fortissima C'è niente da fare Abbiamo un giocatore Come Rolfini Che deve star fuori Ma l'abbiamo visto Quando ha giocato Nel suo vero ruolo Anche a sesto Ha fatto un partitone Purtroppo Ferrari e Rolfini Fa fatica A convivere Quindi adesso Il mister ha trovato Questa soluzione Con due Trequartisti dietro E noi lì Siamo ricchissimi Perché pensiamo Che abbiamo fuori Il più forte giocatore Della categoria Che abbiamo noi Del monte Quindi voglio dire Davanti Noi abbiamo Mille scelte Il problema È trovare Come si diceva La squadra E questo equilibrio Che fino adesso È sempre È mancato Eppure è stato A fasi alterne Mi dispiace Tornare in argomento Ma sarebbe bello Vedere un centrocampo A tre Con Ronaldo E qualcuno Che recupera il pallone Di fianco Recupereremo Scarsella Recupereremo Cavion Io insisto Sul centrocampo A tre Avrebbe senso? Certo che avrebbe senso Ma io direi È natura È natura È lui che decide Anche a quattro Anche giocare In difesa Anche a difesa Quattro Si può giocare Mica è peccato Però questo è un modulo Inderogabile Esatto Ogni natura Ha le sue idee Quindi bisogna rispettarle Quando stiamo bene A tutti In centro campo Ma Stiamo parlando Per dire Scarsella Non ha mai giocato O poco Stiamo parlando Che Quando Vicenza Ha preso Scarsella St'estate Adatti Sembrava Avessi fatto Un acquisto top Sembrava Era un acquisto top Eh beh insomma Quattro campionati vinti Dieci Un centrocampista Chi è che non lo vuole Eppure qui Non sta giocando Non sta rendendo Ma stiamo parlando Di un giocatore Eccezionale Per la categoria Non era accompagnato Cavion Quando è venuto qua È sceso Dalla categoria Dalla serie A Accettato Però non sta rendendo Neanche lui Come sappiamo Che può fare Quindi Se crescono Questi giocatori Anche a centrocampo Noi abbiamo Un centrocampo Veramente forte È che fino adesso Secondo me Non si è mai trovata La quadra Sia con il natore Di prima Che con questo Stanno ancora Provando Ma Speriamo che adesso La formula giusta La chimica giusta Ancora non è stata trovata Evidentemente no Perché La suggestione Che veniva Evocata Almeno dei tre A centrocampo È condivisibile In fase di filtro Diciamo In fase Nella fase difensiva Perché continuiamo A parlare di una squadra Che ha segnato Dieci gol In due partite C'è dubbio C'è dubbio Dipende anche Contro chi hai giocato Perché Cioè voglio dire Per carità Dopo È una semifinale Di coppa Ma il Manto Aveva motivazioni Aveva tante Il Manto Aveva motivazioni Sì Potrebbe Sparire dai professionisti Ma società Di grande tradizione Però Claudio Le squadre Con cui abbiamo perso Ripeto Sciaguratamente Nel periodo Pre ritiro Non è che fossero Tanto differenti Dal Manto Ma il livello È basso Siamo d'accordissimo Con te Loro suppliscono Magari Con la grinta Eccetera Ma forse i nostri Difettano un po' In grinta Tante volte Ecco però Per una volta È stato ribaltato Il risultato Invece Di farselo ribaltare Insomma Quindi Anche dal punto di vista Della tenuta psicologica Reclamata dall'allenatore C'è un passo in avanti O no? Direi anche tenuta atletica Ecco Questa l'avevamo vista Di fatto anche In i tempi supplementari Della semifinale Insomma Cioè è una squadra Che sta bene fisicamente Sta meglio Probabilmente Non lo so se Donate la pausa Natalizia Forzato troppo Questo lo possiamo chiedere Ecco perché All'inizio A gennaio Non erano così Prestanti Cercare di star zitto Eh no No Non coinvolgiamo Non te la cavi così Non coinvolgiamo Assolutamente Beh intanto io Un'opinione Un po' diversa Sul valore del girone Mi sono confrontato Anche con parecchi colleghi Degli altri gironi Se è pur vero Che questo Per l'andamento Soprattutto Delle squadre di vertice Sembra un girone Dalla maggior mediocrità E' anche vero Che in questo girone Anche le squadre di vertice Ha dimostrato Che possono perdere Con qualunque avversario Quello che non accade Magari per le squadre di vertice Di altri gironi Dove ci sono squadre materasso Insomma Catanzaro ha perso Con la vita erbese Che però è andata a vincere Che ieri Lopez Fuori casa Però è stato Un episodio straordinario È stato un incidente Di percorso Invece da noi Diciamo così Tutte le squadre Quando si affrontano Devono vendere cara la pelle Per portare a casa I tre punti Dunque È molto equilibrato È un'analisi Che si è fatta anche dopo Aver visto Per quanto possa contar poco Chi sono le due finaliste Della Coppa Italia Che sono due squadre Del girone A Dunque Anche qui L'ipotesi Comunque Di non avere Poi un girone Così scarso È un'analisi Che ha Che stanno valutando Anche gli addetti lavori Che ci sta Dopo Un'altra cosa Che mi piace Sottolineare Sono le parole Del mister Si dobbiamo correggerci Perché andiamo Corrente alternata Però è anche vero Che se voi Tu stesso hai detto Abbiamo fatto 12 gol In tre partite Ma soprattutto ieri Hanno fatto Sei retti Sei giocatori diversi E potevano far gol Anche Greco E poteva far gol Anche Gerardi E voglio dire Dunque Ha fatto gol Anche Giacomelli Che è un altro segnale Ha fatto gol Ha fatto gol Anche Giacomelli Dunque Quello che mi sento Di dire È che Al di là Di alcune situazioni Che sono decisamente Da giustare Come avete detto voi L'approccio Come avete detto voi Dei momenti di instabilità Nell'arco Della stessa gara Quello che Si può notare Chiaramente È che Comunque La partecipazione E l'efficacia Da parte dell'intera squadra Non è nemmeno riservata Solo al potenziale Dell'attacco Che comunque È fuori categoria Per la categoria Come ha detto Gianni Senti Giovanni Stiamo per prenderci una pausa Diamo un aggiornamento Del posticipo Si è chiuso Con quel rigore Sì Siamo pronti A ricominciare Sono negli spogliatoi Tra Torino E Cremonese 1-0 Rigore di Sanabria Si ripartirà da qui Allora Come detto Ci prendiamo una pausa Quando torniamo Ascoltiamo le parole Del patron Renzo Rosso Ponte Aldo Allora di nuovo in diretta Dallo studio Di Rigorosamente Calcio Ripartiamo dai vostri messaggi Anna Allora abbiamo parlato Della questione Del campionato Scarso Non scarso Ecco I telespettatori Ci scrivono A voce unanime Che assolutamente Non è un campionato Scarso Non è un girone Scarso Anzi forse È il più equilibrato Dei tre Ed è quindi Un altro discorso Ma lo vedremo Poi ai playoff Se effettivamente Era il più scarso O meno Per quanto riguarda Invece il lane Nel presente Ci scrivono Siamo tutti molto contenti Della vittoria Però Questo non cancella La paura Ogni volta che arriva Un cross in area Perché la difesa Manca di una pedina Di spessore Ed esperienza Che non arriva E quindi ci becchiamo Gol Ad ogni partita Non si stancano Dunque Di sottolineare Questa debolezza Del Vicenza Che non permette Di essere sereni Al cento per cento Storicamente In effetti Dicono In B Sale Chi prende Pochi gol E già questo Ci chiama Fuori Se non risolviamo Come si farà Poi senza difesa In Coppa Si stanno chiedendo Colmanto è andata così Ma se prendi un gol Da Feralpi O dal Pordenone Riesci poi a rimediare Ad ogni modo Facendo un po' Di analisi Di statistiche Perché i nostri tifosi Sono bravissimi Da casa Ci scrivono Dove sarebbe Il nostro Lane Con una difesa Più performante Feralpi è prima In classifica Con 15 gol subiti E Lane invece Ne ha 33 di subiti Feralpi però Ne ha fatti 25 Mentre Lane Ben 52 E quindi C'è sicuramente Da meditare I 6 gol Comunque sono Importantissimi Visto che siamo A più 19 Differenze reti Mentre il Pordenone È a più 20 Quindi potrebbe essere Questa una variabile Che alla fine Deciderà il campionato Perché no Tantissimi complimenti Poi per il settore Giovanile Ci tenevo a riportarli E poi ne parliamo Un grazie Un grazie veramente A Michele Nicolin Un ringraziamento Veramente riconosciuto Da più di qualcuno Nei messaggi Grazie Abbiamo anche Un altro sondaggio Da lanciare Abbiamo anche Un altro sondaggio Immagino che Intanto siete già Andati a votare Al primo sondaggio Però adesso vi mostro Anche questo Perché sapete che Ci ampliamo sempre più Non solo alla nostra serie Ma anche alla serie A E quindi vi chiediamo Chi è il miglior giocatore Della serie A In questo momento Secondo voi Osimen Di Balak Varazzelia Oppure Di Maria Quanto ti sei allenata A pronunciare il terzo Hai visto Ormai sono diventata Un'esperta Ci dovremmo abituare Perché secondo me Va a finire Che sarà lui Il miglior giocatore Allora alle mie spalle Vedete il ritorno al gol Di Capitan Giacomelli Allora vediamoli Le sei meraviglie Rivediamole le sei meraviglie In questo video E poi ripartiamo Con il dibattito in studio Grazie a tutti Grazie a tutti Allora dimmi la verità Giovanni Quando hai visto il gol di Padella Cosa hai pensato? Il dispiacere per il gol subito Nulla più Nel senso che è un ex E come tale Si è chiusa la sua esperienza a Vicenza Dispiace perché in quel momento Il Vicenza aveva messo in ghiaccio La partita E subito si è riscaldato Quindi quello si Si Va detto anche che non ha mai avuto A quel punto non c'è mai stato Il timore di un rischio pareggio Insomma no? No però Oddio Avevi appena fatto il gol Del 3 a 1 L'hanno riaperta Quando tu potevi andare tranquillo Quello secondo me è uno degli aspetti In cui devi un attimo migliorare C'è stato un errore piuttosto evidente dietro Lui è arrivato Lo sappiamo insomma Com'è Poi si è andato a sfogare Non benissimo Nei confronti Della tribuna mantovana Dispiace più che altro Per aver preso l'ennesimo gol C'è da sistemare il reparto arretrato Anche per questi discorsi E per aver riaperto la partita Quando l'avevi già Già sostanzialmente chiusa Vogliamo eleggere anche il migliore della partita Probabilmente è stato Stoppa Butto lì un nome Stoppa A me è piaciuto tanto Anche Greco Per esempio Forse quattro gol ha partecipato Greco Adesso abbiamo visto solo il pezzo finale Però O tre o quattro sicuramente A me piace anche Come giocatore Come si muove Ha una grande atleticità Ha una grande bagaglio tecnico Potrebbe starci in Serie B Prego Potrebbe starci in Serie B Per me sì Sì È un giocatore che Potremmo tenere anche in B Decisamente Se che li vediamo Se che li vediamo È ovvio No comunque no Concordo su Greco Tutti gli scongiuri Perché Perché l'uomo ovunque Te lo ritrovi In qualsiasi parte del campo Ha fatto solo l'errore Sul primo gol Del Del manto Ma poi insomma C'era in qualsiasi parte del campo Non so quanti polmoni abbia Perché Ne ha veramente tanti Fino alla fine proprio Fino al sesto È anche uno che interpreta bene Secondo me Lo spirito della Serie C A me piacciono anche altri giovani Ma è il suo ruolo Quello lì in cui viene impiegato Nel modulo di Modesto Oppure Ha fatto bene anche da esterno Ha messo dappertutto Ha messo dappertutto L'1-1 però nasce da lui In posizione centrale Che mette lo zampino Per la ripartenza Poi stop è bravissimo A calciare Però il primo stop Ce lo mette Greco Sul cerchio di centrocampo Quindi non da esterno Non da esterno Gianni Il migliore di ieri Il migliore Comunque in questa fase Ma io faccio una scelta Un po' estemporanea Dico della morte A me sta piacendo sempre di più Questo giocatore Mi sembra che abbia Delle ottime doti Che sta confermando A Vicenza Dopo un periodo di ambientamento Di cui evidentemente Aveva bisogno Perché non è riuscito A inserirsi subito Però vedendolo anche in campo Mi sembra un giocatore Intanto che è un ottimo Partner di Ferrari Prima cosa Che non era la stessa cosa Con Rolfini Che peraltro Secondo me è un giocatore Rolfini Da rivalutare Perché è un giocatore Che facendolo partire Da dietro Ha una velocità Un controllo Notevolissimi Infatti se vedete I suoi gol migliori Sono stati Fatti proprio così E comunque della morte Perché secondo me Sta dando una Veste diversa e nuova All'attacco del Vicenza E' uno che Sa saltare l'avversario E non sono pochi E non sono molti Quello che lo sanno fare E' velocissimo Ha un controllo di palla Importante E credo che potrebbe essere Lui la pedina Che Importante di questa squadra Nelle ultime dieci partite Certo che se il mister Riuscisse a far giocare Insieme della morte Dal monte E stoppa E che questi sono in forma Io penso che Per le squadre avversarie E' durissima per tutti E' dura Con questi tre giocatori Diciamo un nome però Toto Un nome Della partita Contro il Mantua Ma io scelgo Ferrari Forse perché Perché lui Che somiglia No ma perché E' uno che può fare parte Da tutto Anche lui Sempre Generoso E Sono contento per lui Che sta facendo Un grande campionato Prima si parlava di testa E' anche ritrovato Fisicamente Ferrari Si si E' forte anche di testa E' forte No ma nel senso Ha ripreso A gennaio Ha avuto un attimo Di appannamento fisico Non è che si può Non è che si può Fare 34 partite O 38 Sempre al top E questo è fisiologico Però adesso Penso che lui sia In questo rush finale Sarà importantissimo Nella sua presenza Allora Avevo promesso Alcune dichiarazioni Del patron Renzo Rosso Al microfono Di Andrea Ceroni Lo abbiamo raggiunto Durante un evento Al teatro civico Di Schio Organizzato Dal giornale di Vicenza Per celebrare Le 500 imprese Vicentine Più performanti E allora Ascoltiamo Renzo Rosso Ieri è ovviamente Bellissima giornata Perché abbiamo fatto Una buona partita E' chiaro che C'è sempre una spina nel cuore Perché siamo in 5 squadre Su 3 punti Lo sappiamo Che siamo una squadra forte Però il calcio è così Il calcio Purtroppo Non è scontato Non è come l'industria Che tu puoi cambiare In manager O puoi fare Gli investimenti E utili dei risultati Il calcio Ha troppe varianti Troppi componenti Noi siamo qua Ce la mettiamo tutta E speriamo di fare Questo salto Che veramente Meritiamo Merita la città Merita i tifosi Meritiamo tutti quanti 10 gol in 5 giorni Però hanno messo il sorriso Un po' a tutti Sì Siamo una squadra Che ha segnato di più Però Vedi che non è sufficiente Bisogna Forse prenderne meno Quindi Finalmente qualcosa Che non funziona C'è Premesso questo Lavoriamo Su quelle che sono Le nostre capacità I nostri punti di forza Per poter fare Il risultato Migliore Ogni domenica Renzo Quei brutti pensieri Di quel post Sono stati messi da parte Ma sai Per me è una grande sofferenza Se pensi A tutto quello che faccio Gli investimenti I miei soci È veramente Una spina nel cuore Quando perdi Perdi una partita Sto veramente male Quindi divento triste Il lana rossi L'anemi è entrato Proprio nel cuore Quindi Divento cupo Scuro Trascuro la mia famiglia E questo non è bello Sicuramente Per cui Mia moglie mi ha detto Cioè Devi smetterla Cioè devi fare una scelta Di quello che devi fare Nella tua vita Allora la mia scelta Sarebbe che Vicenza Cominciasse ad andare bene Questa sarebbe la scelta Prima La scelta migliore Quindi Li abbiamo accantonati Comunque un po' I pensieri Ma non si parla di pensieri Si parla di stati d'animo Che Tu Sei là Pieno di passione Di amore Fai di tutto di più E poi Le cose non girano magari Come si vorrebbe Per cui È lo sconforto Della situazione E visto anche i tifosi Come hanno reagito Ovviamente Io non sono d'accordo Come loro hanno reagito Il silenzio Penso che sia giusto Che ognuno esprima I propri sentimenti Nel modo in cui Uno ritiene più opportuno Penso che Il sostenere la squadra Sia fondamentale Sia vitale Perché la squadra Ha bisogno di noi Di tutti noi Soci Ci tifosi Tutti quanti compresi Allora Dieci partite A testa bassa Tutti verso l'obiettivo E poi casomai Ne riparliamo Ovviamente sì No Ne parliamo Ne parliamo a fine Ma Speriamo di fare bene Dai Perché Perché ce lo meritiamo E la città lo merita Veramente Allora Questo era Renzo Rosso Ne parliamo subito C'è da dare un aggiornamento Del posticipo Giovanni Sì Perché la Cremonese Ha pareggiato a Torino Con Saju Che aveva esordito In Serie B Contro Vicenza Non ha fatto sfaceli Né a Cittadella Né a Pordenone Poi è andato ad Ascoli E adesso ha segnato in Serie A Insomma Il calcio è strano È giovane Avrà una carriera davanti E intanto ha portato In pareggio La Cremonese a Torino Quanto manca alla fine? Siamo prima dell'ora di gioco Quindi ancora un terzo Abbondante Va bene Allora Claudio Abbiamo ascoltato La voce di un appassionato No? Sì Che è sempre più raro Nel calcio Nel calcio italiano Se pensiamo A grandi squadre Che di fatto appartengono A fondi di investimento Dei quali non traspare Nessun volto Nessuna voce Nessun tipo di passione Qui stiamo parlando di cuore Ma di cuore anche Di palpitazioni cardiache Non c'è dubbio Ha parlato prima Da uomo Diciamo così Che da presidente E devo dire Che mi ha colpito Soprattutto Un'affermazione Che ha fatto In finale Quando ha detto Che la squadra Ha bisogno Dei tifosi Ora io Non ho titolo Per fare Nessun appello A nessuno Però mi auguro In cuor mio Da tifoso Che di solito Va in tribuna Che la curva Raccolga Questo appello Che poi Non è stato Neanche un appello Lui con molta Come dire Serenità Ha detto Che la squadra Ha bisogno Dei tifosi Speriamo che La curva Domenica Rompa Questa sorta Di Non so neanche come dire Insomma Di atteggiamento Che legittimamente Peraltro Hanno Assunto Ecco Magari mantenendo Lo striscione Meritateci Come monito Certo Sì Però La curva La senti La sud Magica Non ce ne sono O sono rare Con questo Con questa passione Con questa partecipazione In questa serie C Non ne abbiamo viste altre Anzi Spesso Alimentano anche in trasferta L'unica voce Di tifo Auguriamo Io mi auguro Ovviamente Che Decidano Che quello che han fatto Andava bene Ma Ora È il momento Di assumere un atteggiamento Un altro atteggiamento Non sto a dire Positivo Negativo Cosa La squadra Ha bisogno Della sud Tra poco Ascolteremo anche Paolo Scaroni Un altro presidente Che ha Che ha Che ha Voce Posso dare un consiglio Umilmente Al patron rosso E cambiate Non andate più A comprare le maglie Al discount Perché si sbrega Cattute Che mai Piacciono troppo Per quello Le vogliono anche Gli avversari Se le tirano Se le vogliono portare a casa Allora Gianni Hai sentito La voce Di Renzo Rosso C'è dietro Una grande passione E forse C'è anche L'imprenditore Il grande imprenditore Che non riesce a capire Perché non si riesca Ad applicare al calcio Le regole Della grande impresa Basta cambiare Un dirigente Ci sono Ci sono dei trattati Che spiegano Perché L'impresa Commerciale È diversa Dall'impresa sportiva Quindi basta leggerli Si capisce subito Perché No Mi aspetto Da Renzo Rosso Una Una cosa forte Ma non come quella Che ha detto Me ne vado In senso opposto Cioè Da Davvero Patron Presidente Uomo Leader Chiamatelo come volete Cioè In questo momento Il Vicenza Deve partire Non ci sono santi Non si può Per inviare La cosa E allora Deve partire In che senso Partire Nel senso di Vincere Per il traguardo Claudio parlava Di volata Bisogna farla Sta volata Cioè Il Vicenza Deve fare la volata Ne ha la potenzialità E Sarebbe bello Non so Neanch'io cosa Ma Era tanto pacato Ah Seve nascossa Cioè Quello era un contesto Diciamo imprenditoriale Sì E' un maestro Nel Amorbidire i toni Per cui per carità Ci mancherebbe altro Ma Va bene così Ma Insomma Ragazzi Dai Magari Magari Dietro le quinte Le scosse Le dai Come no Se si può raccontare Ma se vuoi coinvolgere I tifosi E far sentire Che è tutto Uno stesso mondo Un unico mondo In cui ognuno Ha la sua parte Ecco Lui ha il carisma Per farlo Mi aspetto questo Ecco Lo fa in negativo Spesso Ma in positivo Meno Allora Un uomo Con la sua esperienza Con il suo carisma Dai Strapassa Sto ambiente Dai Dagli la mossa Sentiamo un po' Dietro le quinte Se è possibile Raccontarlo Ma io su quasi 30 anni Di professionismo 19 li ho passati Con Renzo Rosso Fino adesso dunque Posso dire che Renzo Rosso Che ho visto Nell'intervista È il vero Renzo Rosso Nel senso che Sono convinto Sempre di più Che lui È strainnamorato Del Vicenza Che ha una sofferenza Dentro Anche perché Non sono io a dirlo Ma sono infatti a dirlo Lui è Un vincente In tutto In tutto quello Che fa è un vincente Dunque Chiaramente Questa barca Gli vuole far prendere Quella direzione Che auspicano Anche i tifosi Che devono essere Veramente orgogliosi Perché sono fortunati Di avere Una proprietà Come la nostra Perché non è facile Nel calcio moderno Avere a disposizione Una proprietà Così importante Certo Toto Un presidente Un patron Insomma Una proprietà Come quella Dei Rosso Dà un valore aggiunto Beh di sicuro Insomma Nel panorama Del calcio attuale Il calcio italiano attuale Dà se non altro La garanzia Di pagare Quello che c'è da pagare Che non è banale Una proprietà Da sicurezza Da tutto Insomma Perché i giocatori Poi Quello si aspettano Se viene qualcosa di più Se poi qualcuno Ha qualche idea geniale Ben venga Ma I giocatori Quando sono rassicurati Sul piano economico Poi devono dare il massimo Quindi non hanno neanche Alibi Scusate Quindi qui Devono solo Essere orgogliosi Di vestire questa malia E di provare a dare Tutto 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 Allora tra un po' Vedremo Faremo un viaggio nel tempo E vedremo un totto rondon Dannata Perché abbiamo preparato Con Caio Costa Il nostro regista Un video emozionale Che ci riporterà Negli anni Negli anni 80 Prima però Ascoltiamo invece Cosa ha detto Sempre al microfono Di Andrea Ceroni E sempre a Schio Paolo Scaroni Il Vicenza Ce la facciamo riportarlo Nelle categorie superiori Questo lei lo deve chiedere A Renzo Rosso Perché io Non mi occupo del Vicenza Mi occupo Sufficenza del Milan E mi basta Glielo chiedevo da Vicentino Nel senso Come tifoso Si riesce a Si figuri Ho visto un pezzetto Della partita Che abbiamo vinto 6 a 2 L'altro giorno Allora Vede che lo segue No io lo seguo Ma sono delle docce scozzesi Ogni tanto facciamo 6 gol E ogni tanto ne prendiamo 3 Cioè È veramente Una cosa non facile Certo Io sono convinto Che abbiamo una buona squadra Quindi riprenderemo La strada Certo Passare dalla CRB È molto difficile È un percorso di ostacoli Il Milan? Il Milan Mi sembra che stia andando Discretamente bene Le dico Per me Il momento più Topic Cioè Noi abbiamo due obiettivi Il primo È fare bene in Champions League Adesso avremo il Tottenham Vediamo Sono cose difficili E la seconda È di riqualificarci Per la Champions League L'anno prossimo Sono due obiettivi Soprattutto il secondo Qui teniamo molto E speriamo di riuscire A raggiungerli Allora E questo E questo era Paolo Scaroni Anche lui No? Tony Stefani Ha sottolineato Questo saliscendi No? Questa altalena La sensazione È comune A tutti Insomma Ma credo anche Alla stessa squadra Insomma Anche un avvio Come quello di ieri A Mantua Se sei restato al bar O sei andato in campo Dopodiché si sono presi Evidentemente Forse certe volte Sai Non vorrei che forse Sono anche Troppo consci Delle loro potenzialità Un po' si specchiano Ecco sì Esatto Sarebbe più bastone Meno carota Ha detto anche il mister Dopo la partita Parlando di Ferrari Ha detto Va un po' pungolato È un Argentino tipico Serve a questo La squadra Esatto Poi sai Abbiamo anche un Argentino Un brasiliano In squadra Quindi non so Poi come riescano A dialogare Vabbè Ma abbiamo visto Che altre squadre Anche l'Inter del Triplete È riuscito a far dialogare Brasiliani E l'Argentini Esatto Senza problemi Allora Io volevo farvi vedere Questo video postato Sui social Da Giacomelli Dallo spogliatoio Alla fine della partita E poi lo commentiamo insieme Perché secondo me Dà la sensazione Comunque Di quello che diceva Nicolino all'inizio La squadra c'è E a voglia Vediamo un po' Vediamo un po' il video Allora Relativizzando tutto Hanno vinto contro il Mantua Però Probabilmente Sembra che l'abbiano vissuta Anche come una sorta di svolta O no? O è solo O è solo voglia Di festeggiare con tutti Sembra che abbiano vinto La Champions Perché Questa è una sensazione Spero che se vincessero La Champions Farebbero altro che Però c'è una cosa Però c'era anche quel commento Siamo noi Siamo noi Era ora Claudio Vabbè Insomma Dai Andar fuori di testa Perché hai battuto il manto Hai giocato anche tu a calcio Se sai cosa All'inizio adesso è stato proprio questo Abbiamo avuto Le occasioni che abbiamo perso Però Ma potrebbero dire Allora cosa dovrebbe dire Che ne ha perso quattro in casa E Feralpi con le ultime E Pordenone Cioè tutti hanno da piangerci addosso In questo Gerone Perché veramente Sì forse le altre hanno avuto Meno Meno alti Però ha vinto meno Capito È stato più lineare Ma ha fatto anche più pareggi Quindi è lì Allora Lo vogliamo vedere questo video Ma ancora Ma va che è del secolo scorso Vediamolo È un video del secolo scorso Adesso starà a Giorgi A vedere Dove potrà utilizzarmi Quest'anno Come primo anno Mi sono rivenuto su Mi sono trovato ad agire Da punta Con uno che spiazzava Come Trevis Io rientravo naturalmente Perché le mie caratteristiche Sono quelle E mi sono trovato In zona goal Che Non so Non Sbagliavo difficilmente E mi auguro Che anche quest'anno Si ripeta Queste cose Che dice Che dice Grazie a tutti. 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 Gigi Simoni è stato un grande insieme a Giorgi sicuramente. Due grandi allenatori. Due grandi allenatori. E invece il partner d'attacco o comunque l'assistman perfetto per Toto Rondon? Beh, ho avuto Lucchetti, però il primo anno con Gropp, Oriano, che ho fatto i 24 gol, Oriano per me era l'ideale perché mi creava gli spazi e era un partner eccezionale. Che giocatore era Pasquini? Anche Nicolini era uno che poteva darti qualche palla. Nicolini è bene. Nicolini è stato un grandissimo giocatore. lui Pasciullo Fortunato poi sono andati in Serie A naturalmente Sabino Sabino grandi giocatori avevamo una squadra che adesso senza nulla togliere vi siete più sentiti vi trovate adesso ci troviamo a fine fra due mesi tutto quella abbiamo fatto un gruppo e ci ritroviamo avete un gruppo Whatsapp speriamo di ricordarci chi siamo arriviamo con la carta di tutti con le figurine panini esatto vi riconosce ma avete fatto un gruppo Whatsapp come vi trovate come si chiama il gruppo Vincenzo speriamo che ci sia ma speriamo anche Roby Baggio vediamo ci sarà Roby di Roby Baggio parliamo tra pochi stanchi perché in questi giorni ha compiuto tra gli altri lui e Pasciullo il 18 l'altro giorno lui e Pasciullo hanno compiuto vi siete sentiti sì sì anche perché in quasi tutte le interviste Roby Baggio racconta che eri proprio tu a portarlo allo stagio insomma mi deve qualcosa con quell'alfa sud lì è in debito ma cos'era come era nata era lui lui non aveva la patente era giovane io passando dal Caldogno facevo questo piccolo favore insomma ecco poi che è stato Malo Caldogno Vicenza sì sì ecco qualche volta mi faceva aspettare perché aveva ancora la tuta che lavorava da suo papà e a me un po' mi faceva incazzare perché ero Roby insomma ne abbiamo combinati in tutti i colori ci sarebbe a scrivere un libro su quell'alfa sud scriviamo scriviamo un libro alfa sud l'alfa sud di Totoro ci prendiamo l'ultima pausa e poi dritti fino alla fine allora Giovanni dobbiamo dare subito un paio di aggiornamenti dal posticipo sì perché eravamo rimasti sull'uno a uno e in questa pausa è successo un po' di tutto prima è passata in vantaggio la Cremonese con Valeri un altro che abbiamo visto l'anno scorso in Serie B contro il Vicenza e poi proprio Valeri contro Singo ha perso il duello il giocatore del Torino è andato a segno quindi due a due e la Cremonese che vede svanire quella possibile successo che manca dal marzo 96 in Serie A allora era contro il Padova all'Euganeo e adesso è due a due a Torino non è ancora matematica però insomma comincia ad essere un po' delineata la classifica inizia ad essere molto difficoltosa anche perché la Sampdoria rimarrebbe a due punti quindi sì molto sotto e con difficile poi ormai penso che puntino più a evitare la The Black famosa dell'Ancona che non vinse mai e portare a casa un successo in stagione allora Anna c'è un po' di arretrato anche con i nostri telespettatori quindi ti cedo la cloche guida tu allora i video e le foto di Toto sicuramente hanno scatenato tantissimi ricordi ho ricevuto tantissimi messaggi infatti a riguardo ci scrivono grandi due gol segnati da Toto a Ferrara partendo dalla panchina quanti gol ho visto fare a Toto Rondon dalle parterre del menti che bei ricordi e questo è Luca Toto Rondon grande bomber ci hai fatto sognare quante gioie il loco Ferrari ci scrivono poi sembra vedere quasi un pochino il grande Toto Rondon avere la difesa del Vicenza però di quegli anni sarebbe veramente una battia torniamo è sempre lì proseguiamo poi con questo tifoso dal 63 che ci scrive a riguardo insomma del tifo del Vicenza la curva deve farla finire con il deve farla finita con il voler castigare la squadra ma come si fa a pagare il biglietto e soffocare la propria fede con 10 gol in due partite una considerazione poi da fare questa è una squadra giovane ieri 8 su 11 avevano meno di 25 anni con 5 giocatori nati dopo il 2000 e tantene abbiamo parlato di una squadra che doveva essere più giovane che doveva dare più possibilità ai giovani e quindi sicuramente sta piacendo questo aspetto a tutti da casa il più apprezzato in campo visto che ne avete parlato prima per i telespettatori è sicuramente Greco ieri che ha fatto di tutto credo che le ultime sconfitte ci scrive quest'altro telespettatore del Vicenza fossero dovute ad episodiche disattenzioni non ad un calo della squadra il ritiro ha quindi permesso di ritrovare concentrazione però adesso c'è da sperare in una continuità che è sicuramente la parola che più emerge dai messaggi c'è tantissimo questa speranza che il Vicenza ci possa garantire un po' di serenità nella continuità di risultati allora tra un po' arriviamo ai sondaggi e anche ai meme più curiosi volevo ripartire con Nicolini proprio dall'aspetto dell'età media dei giovani e così iniziamo magari a parlare anche del settore giovanile in quest'ultima parte di trasmissione abbiamo anche qualche immagine qualche highlights da mandare in onda per i nostri telespettatori ma l'osservazione che ha fatto un tifoso sul fatto che la Rosa sia molto giovane quello sì noi abbiamo tantissimi giocatori nati dopo il 2000 qualcuno che rappresenta un investimento arrivato dall'esterno qualcun altro che arriva dal vivaio è normale che nelle difficoltà non si può aspettarsi che un giovane reagisca come il giocatore navigato che ha già 300 partite nei professionisti ecco si vorrebbe questo ma questo non è possibile insomma e dico che al di là anche del gruppo di giovani che abbiamo internamente che stanno facendo molto bene non dimentichiamoci che abbiamo un bel gruppo folto di oltre 10 ragazzi che in questo momento sta spostando e sta facendo molto bene in altre serie C probabilmente penso anche solo ai 3-4 ragazzi che abbiamo dato all'Arzignano che stanno facendo molto bene non penso che con altrettanta serenità si sarebbero potuti esprimere a Vicenza perché è comunque la piazza delle richieste e degli obiettivi ben diversi immagino che da responsabile sia un po' difficile fare i nomi ma quanto manca ad avere qualcuno in pianta stabile che esca magari da tutta la trafila del nostro settore giovanile beh secondo me il Sandon già si sta esprimendo a certi livelli ed è un ragazzo che ha dei margini enormi parlavo di nome nuovo lui è 19enne per noi ormai è già consolidato a me non piace tanto fare i nomi però penso che comunque nell'ultimo periodo abbiano dimostrato di avere qualcosa anche parlo allora un po' del più giovane della Rosa di Corradi Corradi è un ragazzo che comunque ha tirato l'occhio non solo degli addetti lavori ma anche dei tifosi si vede che è un ragazzo che ha delle qualità e come si trattengono questi giovani che magari sentono le sirene da squadre che magari adesso sono in B o in Serie A ma secondo me non possiamo trattenere i giovani che hanno magari la possibilità di fare dei salti enormi però nello stesso tempo se noi riusciamo a crescere come società anche a livello di categoria penso che per un giovane giocare al menti con un pubblico così e con questo tipo di ambizione e con questa storia valga molto di più magari che dividersi tra settore giovanile e una prima squadra di un top club credere veramente nel settore giovanile oggi cosa vuol dire? credere veramente nel settore giovanile per me è un po' la ricetta di Favini dello storico responsabile del settore giovanile dell'Atalanta credere nel settore giovanile vuol dire avere il coraggio di portare al massimo delle proprie possibilità ogni singolo ragazzo il massimo delle possibilità è arrivare in Serie A e arrivare in Serie B e arrivare in Serie C comunque portarlo al massimo delle sue potenzialità secondo un progetto tecnico ben definito chiarissimo allora io ci rimangono una dozzina di minuti per stare insieme allora intanto per rispondere a quel telespettatore sul paragone Rondon Ferrari secondo me è un po' inappropriato o meglio lui ha più fisico intanto di me qualche chilo e qualche centimetro più di me lui ha più ma sì un po' ci somigliamo però forse io ero un po' più tecnico di lui e l'abbiamo visto in quelle punizioni calciate a lui mi manca ma gli ho detto perché la prima volta sono venuti qua c'era proprio lui e gli avevo detto che lui per arrivare a certi livelli deve raffinare un po' il piede poi secondo me può arrivare anche in Serie B anche in Serie A ma oggi chi è che assomiglia di più nel panorama del calcio italiano a Totò Rondon dalla Serie A alla Serie C qual è il giocatore che ti dice guarda quello mi assomiglia beh no oddio sai il mio forte era il colpo di testa quindi devi trovare un giocatore che di testa la sa mettere bene non lo so perché in Serie A Belotti no Belotti no Zeko 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 ecco ecco lui era un po' uno che dondolava così e poi ecco sì però sì ecco io avevo un discreto un buon mancino ecco che mi permetteva anche di cacciare le punizioni ero zoppo di destro perché se avessi avuto bene però insomma me la cavavo col sinistro e col colpo di testa va bene allora Anna diamo un po' di risultati dei nostri sondaggi stavo controllando proprio in questo momento ed eccolo qui il risultato innanzitutto della situazione la Nerossi una situazione che fa ben sperare insomma è bello che i telespettatori i tifosi siano così propositivi e il 60% in effetti vota per il si è uscito dalla crisi mentre per quanto riguarda l'altro sondaggio quello riguardante la serie A come vedete a pari merito sono ben tre quindi Zimenec Parazzelia e Di Maria con il 29% mentre Di Bala è l'unico che rimane insomma fuori da questa top 3 possiamo chiamarla così allora noi di solito nell'ultima parte della trasmissione diamo un'occhiata anche alla serie A voi che cosa votate al sondaggio sul giocatore migliore Gianni intanto manca qualcuno dell'Inter ne mancano molti avevamo solo quattro posizioni e due del Napoli ci stavano ma sui centrali del Napoli credo che non ci siano discussioni assolutamente anche se la sorpresa di Xvara però sugli altri vabbè insomma c'è molto da discutere andrei un po' cauto ecco io francamente insomma io credo che forse non ci sono sti grandissimi nel campionato italiano per i motivi che conosciamo però insomma fra i primi quattro un Lautaro un Geko ci stavano ecco io non l'ho detto ma per esempio un Lautaro secondo me ci poteva pure stare ecco ma anche non so qualche giocatore del Milan per esempio quando sono in forma naturalmente non adesso aveva sicuramente titolo per stare lì in mezzo però quattro sono pochi dai sì ma è il limite di Instagram hai ragione bisogna che superiamo questi limiti anche perché se no venia fuori esatto una lista infinita Tony tu che che io ho una passione ovviamente sportiva sportiva sia chiaro per chiesa e spero che si riprenda al massimo anche in funzione della nazionale perché mi sembra un giocatore intanto italiano con pochi tatuaggi mi risulta con una capigliatura normale e questo per me ha un valore straordinario senza orecchini esatto senza minicoli eccetera no spero l'ho visto in crescita quanto ci è mancato in nazionale lo sappiamo benissimo ha bisogno di tempo ancora sì e probabilmente è finita dentro anche la crisi di una squadra di una società che probabilmente non lo aiuta se posso dire il mio io penso che Osimène come Gianni io lo colloco addirittura dopo Mbappé e Alland secondo me è il terzo bomber migliore d'Europa e probabilmente del mondo anzi del mondo a questo punto magari ma nella cinquina c'è di sicuro insomma ecco dei più forti Quara è stata una sorpresa ed è travolgente per fantasia inventiva ma anche potenza e anche Gola che ultimamente sta facendo anche Gola ed è una grande sorpresa se si assesta su questi livelli si avvicinerà anche lui ai vertici stiamo parlando dei vertici ma quindi il Napoli può competere anche nella Champions col campionato ormai può competere e credo che se ne accorgerà già l'Eintracht vi pare che affronti in settimana perché il Napoli ha tutto per andare avanti anche in Champions quest'anno veramente gioca un calcio fantastico il Napoli non si può più parlare di sorpresa è un calcio straordinario quello del Napoli decisamente quanto merito dei singoli e quanto invece di Mr. Sport sicuramente la mano del Natore si vede però poi ha trovato degli interpreti che hanno veramente esaltato forse anche il suo modulo e nessuno l'avrebbe scommesso probabilmente all'inizio della stagione vedendo i giocatori andati via anche perché lo stesso Spalletti evidentemente si sta esprimendo al massimo per esempio trovando un modo di stare in campo a un giocatore che è diventato importantissimo e quasi irrinunciabile e del quale a Napoli ci si era accorti poco come lo Botka lo Botka è un giocatore importante ed è il metronomo ed è la diga pensante magari meno appariscente rispetto a quelli la davanti anche Gattuso per la verità che l'aveva richiesto lo valutava inizialmente così ma poi lo aveva deluso un pochino ma Spalletti lo ha recuperato la grande e lo sta affermando come giocatore di livello europeo certo in chiusura quello sfogo che c'è stato da parte di Allegri è figlio probabilmente appunto della situazione che sta attraversando la Juventus però ha litigato in tv per dire non è vero che io sono un difensivista che sull'1-0 ritiro la squadra dall'attacco per difendere eccetera eccetera che allenatore è allora Allegri? è un allenatore nonno intanto perché da poco è diventato nonno e quindi ha preso spunto dalla nascita del nipotino mi pare in conferenza stampa per dire che il nipotino si era lamentato del cosiddetto cortomuso per usare l'espressione che tutti sappiamo cosa vuol dire e quindi vincere di un pelo tant'è che lui ha ordinato tra virgolette alla squadra di fare il secondo gol che pur non meritava perché lui lo ha evidenziato questo dicendo contro il Nant pali traverse azioni sfumate lì per niente abbiamo giocato meglio e meritavamo di vincere a Spezia invece abbiamo subito decisamente una Juventus che se l'è cavata in qualche modo che ha raggiunto anche con un po' di fortuna il risultato questo è il calcio lui questo voleva dire che non sempre si può si deve tanto che ha usato il paradosso di dire che lui ha ordinato il secondo gol per far contento il nipotino che gli contestava il cortomuso allora non è più anche a Vicenza servirebbe un po' di cortomuso ogni tanto ci siamo esaltati quando vincevamo 1 a 0 con l'Arzignano per esempio ci bastava aver fatto il nostro ogni tanto ogni tanto il cortomuso anche il Vicenza una vittoria per 1 a 0 non ci sputteremo sopra assolutamente la filosofia quest'anno è sempre quella di fare un gol in più della Versace però 1 a 0 senti Anna abbiamo anche qualche meme simpatico dalla Serie A sì allora intanto vi volevo solamente aggiornare per la classifica di cui ho appena parlato è bastato parlare pochi minuti di Serie A e si è scombussolata completamente quindi finalmente abbiamo un risultato un pochino più decisivo e lo vedete in testa Barazzelli insomma vogliono proprio farmi imparare a dire questo nome va bene andiamo invece sui meme allora ve ne mostro alcuni intanto visto che sono l'unica ragazza in studio mi sembrava doveroso far vedere questo meme relativo al nostro San Valentino un po' tutte noi ci aspettavamo insomma la cena romantica i fiori e invece l'unica sorpresa che c'è stata è stata quella della Champions che insomma ha avuto la meglio un po' per tutti immagino dopodiché vi faccio vedere questa di Jovic in conference sì oggi andiamo sui cani in conference che insomma riesce a segnare a fare di tutto mentre in Serie A è un po' imbalsamato ed è un cane diciamo così finto i miei preferiti poi quindi Pioli che si trasforma man mano in Allegri visto insomma dopo i tanti 1-0 del Milan e a proposito di Milan proseguiamo insomma ci ritroviamo un pochino tutti in Checco Zalone che dice ma allora sei sano al suo Milan che finalmente dopo 8 partite torna a vincere e infine vi mostro questa qui molto simpatica Roma e Napoli che prendono in giro la Cremonese ma subito dopo tornano a Ciacati perché insomma è la Cremonese che li azzittisce tutti e le elimina entrambe in Coppa Allora questo è un assist perfetto Giovanni per dare anche il risultato finale del posticipo sì appena finita a Torino 2-2 tra i Granata e la Cremonese un punticino che serve poco a entrambe forse più di tutti alla panchina del Torino con Giuric che mantiene salda la sua posizione che ballava allora tra pochissimo tra pochissimo diamo la linea R Sport io ringrazio per essere stati con noi Gianni Poggi Antonio Stefani grazie davvero Claudio Pasqualin Toto Rondon Michele Nicolin grazie davvero Giovanni Barcaro Anna Trevisan grazie ci rivediamo la settimana prossima ci rivediamo con Andrea Ceroni in conduzione vediamo se la cura allora è servita per questo Vicenza vediamo se è superata quella crisetta delle tre sconfitte consecutive di sicuro usciamo da un trittico che ha ridato fiducia 12 gol in tre partite in una settimana il passaggio del turno in Coppa Italia a proposito anche la Coppa Italia le due finali da seguire su TVA con diretta bianco-rossa la linea ora va a R Sport grazie davvero buonanotte riduci i tuoi archivi cartacei la tecnologia di stampa Canon è la soluzione per digitalizzare i documenti facilitarne la ricerca e la modifica scopri come contatta Studio Gamma Habitat ti prepara per la bella stagione e propone ed installa le più moderne tende da sole in tutti i formati e dimensioni a Tristino Via del Lavoro e a Vicenza Centro Ponteano